Siamo che fatica la vita da bomber e siamo venuti a testare la fede rossonera. I tifosi del Milan saranno disposti a mangiarsi una cipolla per la maglia di conti? È così mangiabile. Proviamo? Vai! Montella ha fatto esonerare il preparatore atletico. Di chi è la colpa? Questa è una bella domanda. Io so solo che quando un giocatore viene al Milan, invece di migliorare, peggiora. E questi più giocano insieme e peggio fanno per adesso. La cosa della dieta vegana è strana. Io do ragione a Montella. Che domanda! Penso che se lui stava a contatto con lui, il preparatore atletico lo scelgo io. Non ho solo capito. Lui stava a contatto con lui, ma il preparatore atletico lo scegli tu. Quindi è colpa di Montella? Può essere anche di Montella. Del preparatore atletico. 100%. Montella non ha colpa. Porco cane, dai! Secondo me la colpa non è sicuramente tua, del preparatore atletico. È andato in pensione, Peverino, bisogna darlo. Forse sarà un ritorno di Ancelotti. Montella ha detto che oggi è la gara della svolta. Se vinciamo bene, se perdiamo arriva Ancelotti. Speriamo che arriva Ancelotti. La notizia adesso è l'ultima ora, è ufficiale. Guarda, ne parlavamo poco fa, Mila-Roma, notizie di Sport Mediaset. Ultima partita di Montella, ho già firmato Ancelotti. No, dai, sì. Io non la sapevo, te lo giuro. Io non la sapevo. Ancelotti uno di noi, Ancelotti uno di noi. Ancora, ancora. Ancelotti uno di noi. Ufficiale? Adesso non è che Sport Mediaset mi stanno, li guardo dai tempi di caressa, di pelle gatti, però non è che Dio. Noi ti vogliamo dare un'opportunità e ti faccio vedere un video. Ciao ragazzi, affido la mia maglia anche fatica alla vita da bomber e voglio vedere voi cosa siete disposti a fare per la via. Grande Conti. Cosa è disposto a fare un tifoso per la maglia di Conti? Quello che vuole. Le formazioni dei campioni d'Europa del 1963. Non lo so, qualunque cosa. Lasciate in bocca la prima che capita. Penso qualsiasi cosa. Cambierei città subito, cambierei lavoro, cambierei tutto. E uno! Posso dire Ghezzi, David Trebbì, Benitez, Maldini, Trappattoni. E due! Vivatelli, Sian, Altafini, Rivera, Mora. Che fatica la vita da bomber e tre! Se ti mangi una cipolla intera in 30 secondi ti porti a casa la maglia di Conti. Ma che schifo c'è? Ma se gli do, se gli do un morso, basta neanche con un morso? No, mi è viengiata a piangere. Hai 30 secondi per finirtela e te ne vai a casa con la maglia di Conti. E che pizzica la cipolla! Sei pronto? Non fai. Andiamo. Vai! Un sorosetto! È una mela, è una mela! Mi sto gustando. Ma è buona. Ottimo. Notol si no. È sarro mi sunlight cake è solo un po' Fine, non siamo un po' Fine, non sono un po' Fine, non sono un po' Fine, non sono un po'. Non sono un po' Fine, 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 non realidade. Mio in Lugopp. Nonon, come這'ли! Checchi! Ci� il Qui thick i La prima, Checchi!